Buona giornata ancora da parte di Marco Revello e benvenuti negli studi di Teleradio Pacio, ben ritornati per meglio dire. Un saluto anche a Paolo Solari che cura la parte tecnica in Regia, Cristina Oneto già presente in redazione che molto più tardi vedremo in diretta e salutiamo anche tutte le persone che oggi hanno qualcosa di particolare da festeggiare, il loro santo patrono, un anniversario, una ricorrenza o il loro compleanno. Allora iniziamo proprio dai santi ricordati e festeggiati in questo giorno del 5 di aprile, oggi la chiesa ricorda e festeggia San Vincenzo Ferreri, sacerdote che nacque a Valencia in Spagna il 23 gennaio 1350, altri santi di oggi la martire Santirene di Salonico, Santa Giuliana di Cornion, Santa Maria Crescenza Os, San Gerardo di Sauve Magère e ancora Sant'Alberto di Monte Corvino, Santa Caterina Thomas, Santa Furferbuta, i santi cristiani di Arbal, santi martiri di Persia, Beata Diana Giuntini. Auguri a tutti coloro quindi che oggi hanno qualcosa di particolare da festeggiare e naturalmente un augurio di un'ottima giornata anche a coloro che comunque ci seguono e che appunto si apprestano a vivere questa bella giornata di martedì perché è iniziata con il migliore degli auspici, con il cielo sereno, con il sole già alto nel cielo e con temperature che sono ancora piuttosto rigide, sono comunque al di sotto della media sagionale, però notiamo un aumento della temperatura soprattutto in quota. Oggi abbiamo ancora valori negativi ma non più intorno ai meno 7 gradi, meno 8 gradi, siamo a meno 3.7, meno 3.7 ma abbiamo avuto una minima di meno 5.1, questo ai 1785 metri del Monte Bue, meno 1.9 la minima Rocca Daveto, meno 3.4 a Rezzoaglio Basso, meno 4.6 a Cabanni di Rezzoaglio, meno 4.7 a Parazzuolo di Rezzoaglio, quindi temperature che sono sempre negative ma un pochino più alte rispetto a quelle registrate nelle ultime due notti. Andiamo a vedere la minima di Casali Borzonasca, 2.9 e poi 3.7 a Belpiano e 3.6 a San Sirofoce. 5.9 aumentata la temperatura della Val Graveglia a Pontori, in Val Fontanabuona 2.9, siamo sempre sopra lo zero naturalmente a Favale di Malvaro, 4.9 a Piendepreti di Tribogna, 2, anzi un grado e mezzo a Pezzonasca di Moconesi e 5.4 a Villa Uneto. Veniamo sulla costa dove le temperature sono aumentate di un paio di gradi rispetto alle notti precedenti, a Santa Margherita sul porto 6.7, 6.2 a Rapallo sul lungomare, mentre a Rapallo nella zona interna del Golf 3.3 sopra lo zero. Minima di 7.2 al porto di Chiavari, mentre nella zona interna di San Pierdi Canne 5.9, 4.3 sul porto di Lavagna, 8.2 sulla spiaggia La Secca di Moneglia. Andiamo invece nel centro di La Spezia dove la minima è stata di 6.1 a Genova Nervi 8.9, nella zona centrale di Genova per esempio a Marassi o meglio a San Fruttuoso 5.5, poi andiamo a Savona con 5.4 gradi, ad Imperia con 5.3 e a Sanremo con 6.2 gradi. Allora il flusso molto molto freddo che abbiamo registrato in quota, che ha portato addirittura la neve nella mattina di sabato a quote collinarie, non si era mai visto in questo inverno una neve così bassa, ecco quel flusso si sta riassorbendo, non è così attivo e nelle prossime ore si assorbirà completamente. Questo non vuol dire un ritorno alle medie stagionali nel giro di poche ore o pochi giorni, continuerà comunque ancora un po' di freddo soprattutto durante le notti, però c'è da registrare l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà soprattutto aria instabile, umida e quindi un po' meno fredda. Questo impatterà sulla nostra zona diciamo nella giornata di domani con un peggioramento che sarà temporaneo, cioè durerà il tempo del passaggio di questa perturbazione, ma che la Limet prevede possa portare anche a precipitazioni sul nostro settore, in particolare sul centro della Liguria ma anche sul Levante. Le precipitazioni saranno nevose, questa volta a quote piuttosto elevate, stiamo parlando di 1400 metri, comunque la neve dovrebbe quindi scendere ancora sull'Aveto che in questo momento comunque di neve ne ha abbastanza, come forse non si è vista in altro momento dell'inverno. Vediamo la foto che è in diretta con questa giornata molto bella, ci arriva dal Monte Bue, vedete appunto la copertura nevosa che è abbastanza uniforme anche se vediamo che non è altissima, e in altre zone fino appunto alla settimana scorsa vedevamo invece dei prati brulli da queste parti. Allora neve che scenderà dicevamo a quota 1400 metri, poi dovrebbe riassorbirsi tutto nella giornata di domani, quindi giovedì dovrebbe tornare a una situazione di tempo variabile. Questa è la previsione che vedremo in particolare, in analisi nella seconda metà del nostro programma, verso la fine, verso i saluti tra una mezz'oretta e adesso andiamo invece a vedere i titoli che arrivano dai quotidiani di Edicola questa mattina, siamo qui su Avvenire, l'orrore svelato delle stragi e chiaramente si parla delle terribili immagini che sono arrivati da Buccia, che sollevano l'indignazione dell'Occidente, mentre Mosca nega e dice che è stata tutta una montatura di Zelensky, del governo ucraino Biden, che insomma in questi ultimi periodi non si sta distinguendo per essere un po' un mediatore, ma anzi butta benzina sul fuoco e continua a dire cose piuttosto gravi, appunto Putin criminale da processare, Zelensky è un genocidio ma dobbiamo continuare il negoziato, quindi addirittura c'è più moderazione da parte di Zelensky che non di Biden e poi sanzioni europee anche sul gas, il no di Germania e Austria. L'editoriale a firma di Marco Tarquinio il solo volto della guerra, benedetto chi dice no e fa altrimenti. E poi vediamo appunto due immagini una un po' stridente, cioè di questi due sposi su un'auto completamente distrutta dalle bombe e perché chiaramente c'è una vita che vuole andare anche avanti e quindi che vuole appunto far capire che c'è una voglia, un desiderio di vita, di normalità assoluta e quindi vanno avanti anche i matrimoni un matrimonio celebrato a Kiev. Poi Di Maio eletta per l'embargo, ma Draghi rimane prudente Mattarella colpire i cittadini è un crimine contro l'umanità, abolizione delle mine nella giornata è appunto contro le mine anti-uomo, ma ricordiamo che l'Italia è stata una delle maggiori produttrici di questi ordigni terribili che molto probabilmente uccidono soprattutto i civili e soprattutto i bambini vittoria col 53% dei voti per Orban che riconquissa l'Ungheria, ma non è mai stato in dubbio questo fatto si allarga il muro con l'Unione Europea. Noi chiaramente sappiamo che c'è una stampa completamente negativa e sfavorevole ad Orban in Europa, ma nel suo paese non è mai stato così. Francesco, andrò a Kiev se conveniente per la pace, da Malta la prudenza del Papa, la fede non si difende puntando il dito. E poi un fatto molto grave questo manifesto funebre apparso alcuni giorni fa e non era uno scherzo di aprile, di primo aprile Vescovo minacciato, indagini sul manifesto a Nocera, Sarno e poi ancora appello bis per il falso Cucchi, le condanne diventano definitive a 12 anni per i carabinieri. E poi luoghi dell'infinito la passione, le arti ai piedi della croce, insomma come l'arte ha sempre interpretato e raccontato i giorni della passione del Signore che stiamo per rivivere nella settimana santa che inizierà appunto da lunedì prossimo. A bucia è morta anche la pietà, questo è il titolo del secolo XIX, le parole sono virgolettate, emergono nuove atrocità, Biden-Putin deve essere processato per crimini di guerra, continueremo a dare armi all'Ucraina, dicono dagli Stati Uniti, l'Europa domani vara altre sanzioni ma non ci sarà lo stop al gas russo, Germania-Austria non possiamo farne a meno e quindi diciamo l'embargo completo non ci sarà. Ancora scende il PIL e sale la spesa verso un decreto bis contro il caro energia, la situazione economica in Europa si fa sempre peggiore, addirittura adesso le previsioni sono di una recessione nella seconda metà dell'anno, nel secondo semestre del 2022 e poi Cucchi che morì per le botte in caserma, due carabinieri condannati a 12 anni, questa è la sentenza della Cassazione, quindi per definizione sentenza definitiva. Leonardo inaugura l'Academy Reza ancora più strategica per il paese dal conflitto in Ucraina, Genova la scuola per fermare gli attacchi cyber e poi Galattieri delle generali dice offensive le accuse al CDA centrati gli obiettivi, quindi difende l'operato della sua amministrazione. E poi c'è lo sport con il passo farso del Genoa che ultimamente sperava in una salvezza magari conquistata all'ultima giornata ma con la sconfitta di ieri diventa davvero molto difficile. Genoa punito dal Verona degli ex, Blessing sbagliato il primo tempo, è la prima volta che Blessing da quando è sulla panchina del Genoa perde, le altre volte erano stati tutti i pareggi e una vittoria. E poi l'olio di semi cambiano i menù dei ristoranti perché l'olio di semi scarteggia e il fritto ligure è austerity. Una delle nostre specialità di pesce è sicuramente il fritto del golfo, fritto misto appunto sia sulla costa che nell'entroterra, il fritto misto all'italiana e in effetti i semi con cui si fanno gli oli scarseggiano sempre di più proprio a causa del conflitto ucraino. Allora andiamo a leggere all'interno del secolo XIX, olio di semi razionato e pesce a peso d'oro, la frittura scompare dai menù dei ristoranti, la corsa dei prezzi ha spinto molti gestori a tagliare il tradizionale piatto, costi alti e mancanza di materie prime ma alcuni locali vogliono tenere duro perché il fritto è una nostra specialità, una specialità soprattutto della Liguria ma un po' di tutte le cucine marinare ma noi abbiamo anche il fritto misto diciamo derivazione piemontese che ha una nostra interpretazione anche negli entroterra quindi diventa un problema toglierlo proprio da tutti i menù. I consigli dello chef, combattere gli sprechi oggi è ancora più importante e poi visto nella stessa pagina della Liguria, stabilimenti balneari in ripresa, Genova cerca 150 addetti anzi oltre 150 addetti, l'appello del consorzio che rappresenta 14 aziende, mancano bagnini ma anche cuochi e DJ quindi insomma il settore balneare cerca nuovi dipendenti e naturalmente soprattutto attraverso i centri dell'impiego in Liguria. Ma andiamo ad un'altra notizia che interessa la sanità del nostro territorio, è stato siglato un accordo con l'ospedale Galliera, un accordo che coinvolge in particolare l'ASL ma soprattutto l'ospedale Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, accordo appunto ortopedia 700 protesi a Rapallo, lista d'attesa unica con l'ospedale Nostra Signora di Montallegro quindi Galliera e Montallegro, Totti l'obiettivo e arrivare a mille e su questa nuova frontiera della collaborazione tra i vari ASL e i vari ospedali vediamo il servizio realizzato ieri dalla nostra redazione. Va a regime la sperimentazione avviata da qualche mese che coinvolge ospedale Galliera e ASL 4 per incrementare l'offerta di prestazioni ortopediche, la creazione di una lista di attesa unica per accedere agli interventi di chirurgia protesica dell'arto inferiore. Abbiamo iniziato da qualche mese con un'attività legata all'equip del dottor Mazzola che periodicamente settimanalmente anzi veniva qua a fare delle attività quindi da un iniziale diciamo passaggio di tipo prestazionale vengo qui e faccio Totti interventi siamo passati a un processo invece integrato in cui le equip si fondono attraverso il dipartimento come struttura organizzativa dottor Mazzola sarà il direttore di questo di questo dipartimento e all'interno lavoreranno medici dell'ASL 4 e medici del Galliera. All'ospedale di Rapallo si troverà l'intero percorso dalla visita ambulatoriale pre ricovero all'operazione fino all'adegenza e alla riabilitazione. A regime 700 interventi all'anno con relativo budget assegnato da Regione Liguria per abbattere le liste d'attesa e ridurre le fughe verso altre regioni. Causa Covid in ASL 4 nel 2020 e nei primi mesi del 2021 non sono stati fatti interventi di questo tipo. Con il progetto Restart già nell'autunno del 2021 noi però abbiamo ripreso e abbiamo fatto quasi 100 protesi. Nei primi due mesi del 2022 siamo intorno ai 70-75 protesi. La dimensione dell'attività comporterà la necessità di reclutare altro personale con competenze specifiche oppure da formare. ASL 4 mette a disposizione 20 posti letto per acuti e 24 per la riabilitazione già presenti e fino ad ora non utilizzati. Questo ospedale è assolutamente avanzato sia nella sua concezione sia nella sua realizzazione quindi permette un funzionamento assolutamente idoneo a questi percorsi. Tant'è vero che noi non abbiamo dovuto compiere lavori, semplicemente decidere di utilizzare delle aree per il percorso chirurgico e delle aree per il percorso riabilitativo. Il modello organizzativo che va a sistema oggi fra Galliera e ASL 4 è lo stesso che viene replicato altrove. In questo modo viene valorizzata una struttura, quella dell'ospedale di Rapallo, fino ad oggi sottoutilizzata. Rapallo è destinato ad essere uno dei grandi hub di smaltimento delle nostre liste d'attesa in collaborazione con il Galliera perché è giusto che tutte le nostre eccellenze contaminino anche le altre aziende e gli altri territori così come stiamo facendo con il San Martino in Santa Corona, così come faremo ancora con il Galliera nel Ponente, così come stiamo facendo per le pediatrie con il Gaslini dal primo di luglio. Io credo che tutto questo darà maggiore produttività a ogni singolo presidio ospedaliero e migliori servizi al cittadino. Allargando il discorso appunto proprio sull'ospedale di Rapallo, leggiamo sempre dal secolo XI di oggi, i nodi da sciogliere sono gli spazi al pian terreno che una volta ospitavano il primo intervento e 30 posti letto. A questo punto rimangono due punti nodali, dice appunto il secolo questa mattina al piano terra dove non tornerà più il primo intervento, è stato chiuso in occasione del Covid e non verrà riaperto e i 30 posti che ormai da anni si presume vengano assegnate in gestione ad un soggetto privato. Al piano terreno è prevista una casa di comunità, servizi ambulatoriali e di presa in carico di problematiche di pazienti senza carattere di emergenza, assimilabile ai codici bianchi del pronto soccorso, quindi una specie di ambulatorio di medici che possono prendere in carico dei casi che non sono appunto dei casi di vita o di morte o dei casi gravissimi da sbucciature e cose di questo genere o comunque piccoli piccoli malanni. Secondo quanto il Presidente della Regione dice il tutto si dovrebbe concretizzare l'anno prossimo. Va bene, a proposito di ABB, ne ha parlato il Presidente Toti, noi l'ABB adesso lo associamo soprattutto alle vaccinazioni ma in realtà ABB è un centro, quindi potrebbe essere utilizzato per qualsiasi cosa questo termine, noi lo abbiamo associato ai vaccini perché faceva bello dirlo. E allora ABB vaccinale ancora a Palazzo Ferdin a Chiavari dove sorgeva una volta l'Agenzia delle Entrate. Si parte con il papilloma virus e i richiami della meningite ma questo ABB servirà appunto alle vaccinazioni anche dei bambini nei prossimi mesi. e quindi riparte un po' tutta l'attività di vaccinazione e anche di malattie che non c'entrano nulla con il coronavirus e che sono vaccinazioni comunque obbligatorie o facoltative ma caldamente consigliate. Ritornano le gite scolastiche ma rigorosamente made in Italy, il Marconi del Pino di Chiavari fa da apripista, 13 classi andranno tra Milano, Assisi, Perugia, Padova e Verona, tanti istituti preferiscono uscite di un solo giorno per il momento senza appunto l'impiego di alberghi, mette raggiungibili in treno o in pulma, insomma le classiche gite scolastiche visite di istruzione da un giorno ma comunque diciamo che si ritorna ad una dimensione un pochino più normale e anche la nostra rivera ha sempre contato sulle gite scolastiche nei mesi morti, diciamo nei mesi soprattutto di primavera, marzo, aprile, quando arrivavano tanti pullman dal nostro territorio, magari in arrivo anche da Genova, magari dopo una visita all'acquario o altri musei della città. E poi c'è la questione svincola 12 per il supermarket basco, c'è una delibera a RECO che è stata assunta dal Consiglio Comunale proprio per evitare al minimo i disagi che causerà questa costruzione di questo supermercato o anche il supermercato una volta aperto. Adesso andiamo ad altre notizie sempre dal secolo XIX di oggi e parliamo ancora una volta di una vicenda molto dolorosa, quella della morte di Roberta Repetto causata da un brutto male da un tumore curato ancora peggio, curato ancora più male da parte del centro Anidra. Anidra slitta l'udienza, si torna in aula venerdì, il caso della morte di Roberta Repetto operata per l'asportazione di un neo nel centro olistico di Borzonasca, accusati di omicidio volontario in tre, lo ricordiamo. La direttrice del centro è invece indagata per circonvenzione perché poi si sono visti anche dei passaggi di denaro piuttosto importanti tra le persone, anche non solo la vittima ma anche altre persone che avrebbero versato al centro diverse migliaia di euro. La Chiavarese è morta per un melanoma nell'ottobre del 2020 e c'è appunto questo processo che prosegue ma l'aslittamento dell'udienza venerdì e poi settimana di chiusura sulla 12, 10 giorni di lavori poi alla tregua, chiusure naturalmente notturne che scattano ogni sera alle 22 per riaprire poi alle 6 della mattina successiva e sono molti i tratti interessati, Nervi Recco, appunto Chiavari Rapallo, insomma poi giorno per giorno noi li diamo quindi è inutile adesso dare tutte queste notizie in questo momento che poi non si tengono a mente, noi ogni giorno vediamo appunto le chiusure per la giornata stessa ma poi dal 13 di aprile scatta la tregua, la tregua con la chiusura di molti cantieri o la riduzione al minimo dei cantieri di lavoro perché noi spesso vediamo dei cantieri in cui si lavorano in 100 metri però sono lunghi due chilometri e non capiamo bene perché, insomma certamente c'è la necessità di chiudere delle gallerie, a volte dei viadotti però forse i cantieri sono un po' più lunghi, un po' più grandi di quello che potrebbe essere necessario quindi la lunghezza è sicuramente proporzionale anche poi all'impatto sul traffico e sulla viabilità quindi più lungo il cantiere più lunghe sono le code in corrispondenza di questo cantiere, verranno ridotte o addirittura alcuni cantieri smontati dal 13 di aprile cioè pochi giorni prima di Pasqua fino al 9 maggio cioè il giorno dopo la chiusura della Euroflora quindi in questo periodo in cui si spera che in Liguria arrivino molte persone sia per visitare la fiera che per fare le vacanze pasquali o passare qualche giorno tranquillo anche in corrispondenza con la festività della liberazione il 25 di aprile appunto i cantieri dovrebbero essere ridotti al minimo e quindi ridotti al minimo anche i disagi corrispondenti. A Chiavari tetto smantellato nel ex area dell'Italgas quella che si trova tra Corso di Michiel e via Trieste, vediamo appunto lo smantellamento del tetto e vediamo anche la vicina, il vicino palazzo che doveva ospitare il tribunale che invece ospita adesso tanti altri servizi tra cui l'Agenzia delle Entrate e poi Antonina festa dei cento anni presso la gabbianella di Chiavari cento anni per la signora Antonina Larocca e vediamo appunto festeggiata anche dai suoi familiari andiamo oltre sempre dal secolo XIX di oggi parliamo di elezioni amministrative ormai sappiamo la data 12 di giugno e quindi c'è ancora tempo relativamente perché mancano due mesi quindi c'è un po' di tempo per prepararle bene ma soprattutto adesso iniziano un po' oltre ai candidati a capire un po' le liste ricordiamo che a Chiavari il centro-sinistra non ha ancora sciolto la prognosi non ha ancora detto chi sarà il candidato mentre invece si sa che per l'amministrazione uscente il candidato sindaco sarà Federico Messuti però ancora adesso non erano note tutte quante le liste che appoggiavano questa sua candidatura adesso ne è uscita una nuova una lista di under 35 quattro liste per Federico Messuti spenuta anche quella degli under 35 il candidato sindaco di Avanti Chiavari maestrale partecipativa aggiunge 16 aspiranti consiglieri alla possibile squadra e poi invece progetto di lavagna insieme a Cogorno restyling della piastra portuale e nuova area verde in via dei devoto a lavagna Parliamo dell'accoglienza degli ucraini, dei profughi ucraini nel nostro territorio e in particolare i 19 rifugiati che erano ospitati a Montemoggio che erano arrivati con il pullman predisposto anche dal villaggio del ragazzo saranno trasferiti da Montemoggio a Santa Margherita Ligure in una bella struttura dietro la stazione vedete una villa proprio genovese molto molto bella di proprietà di un istituto religioso che fino a poco tempo fa ospitava una casa di riposo poi è stato chiuso per mancanza di personale poi fondamentalmente e verrà appunto diciamo data in questo momento temporaneamente per l'accoglienza di questi profughi arrivati dall'Ucraina e di profughi arrivati dall'Ucraina e soprattutto di bambini che sono comunque un bel numero tra questi profughi adesso ci parla dalla redazione Cristina Oneto quindi io darei subito la linea a lei la vedo pronta in redazione buona giornata Cristina Buona giornata Marco un saluto a tutti i telespettatori sì alle notizie crude che arrivano dal fronte della guerra si affiancano in questo tempo storie di accoglienza e di solidarietà che riguardano da vicino anche il nostro territorio come leggevi tu sul secolo XIX ieri è stato fatto un punto in sala stampa in regione Liguria sono 4717 i cittadini ucraini che sono stati accolti nella nostra regione sin qui e martedì prossimo il capo della protezione civile Fabrizio Curcio farà visita a Genova per fare un punto tecnico sull'accoglienza dei profughi nella nostra regione intanto si stanno moltiplicando le iniziative per inserire soprattutto i giovani, i ragazzi e i bambini all'interno delle varie attività dalle attività scolastiche anche a quelle sportive è stata inviata una lettera firmata da Regione Liguria dal comitato regionale CONI Liguria alla comunità ucraina sollecitando appunto l'invito a partecipare alle attività sportive e contemporaneamente sono state sollecitate le società sportive del territorio Ligure ad accogliere questi ragazzi perché possano continuare le loro attività che probabilmente svolgevano già nella loro patria ma anche per offrire loro un momento sereno di condivisione e di svago e di gioco con i loro coetanei sentiamo il punto di questo accordo con gli interventi dell'assessore regionale allo sport Simona Ferro e del presidente regionale della Liguria del CONI Antonio Micillo poi la linea torna allo studio Abbiamo incontrato insieme a lui anche appunto al vicepresidente Andrea Fossati il padre della comunità ucraina appunto padre Tarassen col quale abbiamo manifestato la disponibilità delle federazioni sportive delle società sportive appunto che abbiamo poi interpellato e dire appunto che erano disposti ad accogliere questi ragazzi gratuitamente proprio per poterli far continuare a praticare sport o comunque appunto iniziare ad intraprendere anche a fare sport perché noi sappiamo che lo sport sicuramente è agonismo è anche un modo per poter continuare a vivere meglio a vivere secondo uno stile di vita migliore ed è sicuramente un momento di svago Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sentito abbiamo scritto insieme all'assessore a quattro mani una lettera alle nostre federazioni le discipline sportive associate dati di promozione stanno arrivando le risposte una lettera è andata via tre o quattro giorni fa alcune federazioni stanno raccogliendo i dati per esempio ho avuto una grande sensibilità della danza sportiva per dire che sembra banale invece non è proprio banale per niente o del tennis e così via ma anche le piccole federazioni grazie a Cristino Neto e naturalmente ne parleremo ancora nel corso dei nostri appuntamenti informativi della giornata il prossimo alle 12.45 e anche il sindaco di Camogli Francesco Olivari invita i ragazzi arrivati dall'Ucraina alla sagra del pesce dell'8 di maggio vi aspettiamo l'8 maggio siamo orgogliosi di contribuire alla vostra cittadinanza un po' in polemica con un emendamento della Lega che vuole inserire appunto nel test per dare alla cittadinanza agli immigrati ai profughi anche la conoscenza delle sagre e sicuramente la sagra del pesce di Camogli è una di queste la sagra del pesce festa dello Ius Scoli vabbè insomma un po' di polemica politica ci vuole un po' di scontro politico ne sentiamo tanto la mancanza in questi ultimi mesi storie sconfinate a Liceti per raccontare l'immigrazione un altro tema appunto che racconta di quello che è un po' il movimento migratorio nella storia nei secoli e poi ancora un podcast per ricordare la giornalista Ilaria Alpi fondi alla Scuola Media finanziato un progetto per rendere omaggio all'inviata uccisa nel 94 inviata della RAI di RAI 3 a Mogaditti e del TG3 a Mogadiscio aiuti dal Ministero anche per la realizzazione degli orti sociali e poi ancora dal secolo XIX Verdemare la difesa degli amministratori il caso Recco e ancora Borgo Storico e Lavori Uscio punta sul piano nazionale di ripresa e riesilienza per alcuni interventi e alcune opere pubbliche a Castiglione approvato il bilancio e il piano delle opere per il 2022 ancora a Camogli navetta gratuita prorogata fino al 15 di aprile la conferma è arrivata appunto dalla MT e ancora Punta Chiappa continuano i lavori in via San Nicolò fino a Punta Chiappa appunto lavori di mitigazione del rischio idrogeologico andiamo a vedere l'agenda di Telepace con tutti gli appuntamenti previsti per questa giornata di martedì Martedì 5 aprile dalle 9 alle 13 è allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni di Sastri Levante nella piazzetta di Via Salvi in zona Tannino prodotti agricoli a chilometro zero e trasformati sicurezza e legalità è il tema dell'incontro con gli studenti della città metropolitana di Genova organizzato dal movimento delle Agende Rosse Ligure gruppo Falcone Borsellino l'incontro avrà inizio alle 9.30 al teatro Carlo Felice alla biblioteca universitaria di Genova alle 17 conversazione con Davide Besana sul suo libro Prezzemole vecchi nervetti una raccolta di 108 ricette disegnate con la tecnica dell'acquerello per la rassegna storie sconfinate a rapallo nell'auditorium dell'istituto Liceti alle 21 voci uno spettacolo di Sara Parolai con Daniela Camera e Riccardo Baudino ingresso libero fino ad esaurimento posti è uno degli eventi inserito nella rassegna promossa da 4 istituti Liguri e dal comitato 3 ottobre finanziato dal MIUR ultimo giorno per visitare la personale di Roberto Altman allestita nei locali della Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari raccolta questo è il titolo dell'esposizione sarà aperta dalle 16 alle 19 oggi il secolo riparla anche della questione della raccolta dei rifiuti differenziata o non dei rifiuti in Toto che sarebbe gestita dall'AMIU per tutta la città metropolitana di Genova quindi anche il Tiguglio diviso in due fasce invece i sindaci chiedono una gestione autonoma la gestione deve rimanere ai sindaci SOS ai consiglieri Liguri perché si facciano portavoci di questa posizione all'interno del Consiglio regionale martedì prossimo nuovo incontro per elaborare un ordine del giorno da portare in tutte le assemblee dei consigliari delle varie città se Galerba la regione gestisca gli impianti e non la raccolta dei rifiuti Ghio non si ripete al caso pediatria e ancora il vice sindaco di Zoagli per due mesi pesa la spazzatura prodotta dalla sua famiglia per avere un punto di riferimento una prova per capire come vanno le cose cosa casa mia incide per 470 kg l'anno insomma non sono pochi trasportate tutte insieme sono un bel peso allora andiamo adesso invece a darvi qualche notizia per le prossime ore cioè le previsioni meteo elaborate dalla Limet la rete dei meteorologi Liguri come vedete appunto alle mie spalle il cielo è sereno non ci sono problemi oggi la giornata andrà avanti in questa maniera quindi con il sole con temperature che ancora sono piuttosto basse ma che poi via via nel corso delle ore potranno in qualche modo anche mitigarsi grazie anche al sole all'aria di mare che non è più così fredda come nei giorni scorsi perché abbiamo sentito il flusso freddo si sta riassorbendo e oggi avremo venti di brezza quindi non saranno venti freddi di libeccio come nei giorni scorsi il mare sarà poco mosso quasi calmo sotto costa e quindi nel corso del pomeriggio potremo arrivare anche a sentire i 16 17 o punte anche di 18 gradi quindi temperature nuovamente abbastanza primaverili la settimana scorsa abbiamo sentito anche i 22 gradi ma è stata una punta un po' così eccessiva per quanto riguarda invece domani la Limet prevede l'arrivo di una perturbazione quindi domani la situazione cambierà notevolmente con cielo nuvoloso su tutta la regione e la possibilità di precipitazioni che per quanto riguarda diciamo tutti i territori al di sopra dei 1400 metri potranno essere anche a carattere nevoso quindi quota neve intorno ai 1400 metri le precipitazioni saranno soprattutto nella seconda parte della giornata quindi al mattino soltanto aumento della nuvolosità e poi nel corso del pomeriggio i fenomeni che esauriranno si esauriranno nel corso della serata venti inizialmente deboli variabili che si risponderanno da sud sul Mar Ligure e a Levante al massimo moderati mare da poco mosso a mosso e temperature in aumento soprattutto le minime della prossima notte in leggero calo invece le massime per quanto riguarda giovedì invece avremo una situazione di variabilità ma naturalmente tutto questo è da confermare quindi seguite le nostre previsioni anche nelle prossime ore e soprattutto le previsioni serali nel corso del Tg del Tg appunto di Guglio oggi e naturalmente poi domani mattina daremo una situazione più particolareggiata sempre grazie al Limit così termina la rassegna stampa del Tg di questa mattina un ringraziamento a Paolo Solari che ha curato la parte tecnica e regia Cristina Oneto che è stata con noi in redazione a tutti voi che ci avete seguito come detto prima il prossimo aggiornamento alle 12.45 noi vi aspettiamo domani mattina da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata